Andiamo a calcolare la derivata delle funzioni immerse delle funzioni iperboliche. Noi avevamo arcoseno iperbolico, se vi ricordate, veniva se io devo ricavare l'arcoseno iperbolico di x insomma è questo, chiamiamolo y, poi se vi ricordate ponevo t uguale alla x, quindi qua era t meno 1 su t uguale a 2y, quindi era t quadro meno 2 di y meno 1 uguale a 2, quindi t era y meno più la radice di y uguale a più 1. Poi questo era la x, poi si faceva il logaritmo e poi si scambiava il nome di y uguale a x, quindi questo qua non era altro che il logaritmo di x più la radice di x quadro più 1, questo vi ricordo per quale motivo, perché la soluzione col meno si doveva scattare perché veniva negativa. Ok? Allora questa è la funzione, quindi stavolta l'espressione analitica ce l'abbiamo già per l'inverso. Allora per derivare questa funzione qua basta semplicemente applicare la regola di derivazione alla funzione composta, che è la derivata prima? La derivata prima è, la derivata del logaritmo è 1 fratto il suo argomento, cioè 1 fratto x più la radice di x quadro più 1 per la derivata di questo argomento, ma la derivata di questo argomento fa 1 più, la derivata di questa radice fa 1 fratto la radice di x quadro più 1 per x, era 2 e 2 e poi si semplicava. quindi quando vado a fare una somma sopra viene x più la radice di x quadro più 1 fratto la radice di x quadro più 1 fratto x più la radice di x quadro più 1 quando vado a semplicare rimane 1 fratto la radice di x quadro più 1, quindi vedete, io continuo qua con f di x, f primo di x, se al posto di f di x ci metto l'arco seno iperpolico, la derivata vi fa 1 fratto la radice di x quadro più x quadro più 1, già a sensazione uno potrebbe dire, probabilmente abbiamo fatto bene perché se la radice dell'arco seno fa 1 fratto la radice di 1 meno x quadro ci può stare che questo faccia 1 fratto la radice di 1 più x quadro, poi c'è un'altra questione che ci fa propendere per il fatto che abbiamo svolto correttamente l'esercizio, se noi andiamo a prendere la funzione arco seno iperpolico, allora com'è fatta la funzione arco seno iperpolico, fatta così, ok? Solo che non ha asinio, cioè il limite qua è la funzione va più infinita, ora una funzione fatta così e definita su tutto r, deve avere una derivata definita su tutto r, infatti questa derivata è definita su tutto r, se non fare senso, qualunque sia il valore di x questa si può calcolare, non solo, questa ci dice che man mano che andiamo avanti la derivata diventa sempre più piccola, effettivamente la funzione continua a crescere però sempre di meno, però stavolta il limite della derivata va a 0, ma se andiamo a fare il limite di questa funzione qua, x più quella radice è maggiore di 2x per che va più infinito ma è infinito, il logaritmo di una cosa che va più infinito ma è infinito, lentamente ma va più infinito, quindi non la funzione, nonostante la derivata vada a 0, però l'espressione della derivata è abbastanza corrente con il gratuito della funzione, quindi questo ci conforta è abbastanza correttamente esistente. Andiamo a fare adesso la derivata dell'arco coseno iperbolico. Se vi ricordate come è fatto l'arco coseno iperbolico, stavolta l'equazione era, ponendo t uguale a e alla x, l'equazione era t più 1 su t uguale 2y, quindi era t quadro meno 2ty più 1 uguale a 0, quindi y, quindi t scusate, era uguale a y meno più la radice di y quadro meno 1. Allora se vi ricordate stavolta la y bisognava prenderla, poi questo era e alla x bisognava fare logaritmo e quindi quasi mi viene qua e poi cambiare x e y, quindi qua mi viene logaritmo di x più la radice di x quadro meno 1. E quale motivo più? Stavolta non perché se ci metto meno, e questo vale per x maggiore o uguale di 1. Perché se vi ricordate il grafico dell'arco coseno iperbolico, non si fa così, non si fa la ragione. Ok. La, stavolta se ci mettessi meno, se vi ricordate che avevamo fatto il conto, vi avrebbe esattamente la funzione opposta. è che x più questo per x meno questo, se andate a fare il prodotto viene esattamente uguale. E quindi essendo reciproci il logaritmo è il reciproco dell'opposto. Comunque, una volta che abbiamo ottenuto l'espressione analitica, possiamo tranquillamente andare a fare la derivata. la nostra derivata è uguale alla derivata del logaritmo nel suo argomento, per la derivata di quella espressione là, quindi 1 più 1 fratto 2 volte radice di x quadro meno 1, per 2x, 2x semplificazioni. Quindi, quando vado a fare la stessa semplificazione di prima, la stessa somma e quindi semplificazione di prima minimale, è 1 fratto la radice di x quadro, questo per x stavolta maggiore di 1, quindi a coseno del volto di x, la derivata fa 1 fratto la radice di x quadro. torna, torna perfettamente perché nel punto 1 la funzione della derivata non ce l'ha perché la tangente è verticale, e infatti, algeplicamente, la derivata non ce l'ha perché è 1 su z. E nel punto 0 coseno iperbolico di 0 aveva il minimo, la tangente è orizzontale, la funzione immensa ha, in quel punto del grafico la tangente è verticale, e qui la funzione è l'x, non ha la direzione, invece per x maggiore di 1 ce l'ha, quindi questo è un altro caso, come per le funzioni a coseno e a coseno, qui questa c'ha un dominio, x maggiore uguale di 1, la funzione derivata ha un dominio un po' più piccolo perché perde, andiamo a fare la funzione f di x uguale alto tangente iperbolica di x l'arco tangente iperbolica di x, se vi ricordate il grafico della tangente iperbolica assomigliava vagamente a quello della tangente, però gli asintoti erano meno 1 e 1, questa è la tangente iperbolica. l'arco tangente iperbolica l'arco tangente iperbolica fatta così ed è definita tra meno 1 e 1 l'arco tangente iperbolica e basta, non ha, diciamo, definita su cui fa la ventura però se voglio determinare l'espressione analica dell'arco tangente iperbolica, cosa che abbiamo già fatto, però lo ripetiamo stavolta qual'era l'equazione? l'espressione era e alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x uguale x si otteneva t quadro meno 1 fratto t quadro più 1 uguale y sarebbe t meno 1 su t fratto t più 1 su t moltiplicare per t sovversutto ottenere t quadro meno 1 fratto t quadro meno 1 a questo punto io ottengo t quadro meno 1 uguale y per t quadro più 1 quindi ottengo t quadro per 1 meno y uguale 1 più y quindi ottengo t quadro uguale 1 più y fratto 1 meno y adesso devo, questo è e alla 2x adesso devo fare il logaritmo e trovo 2x e poi devo fare un mezzo quindi qua mi viene esattamente il mezzo del logaritmo di 1 più x fratto che poi alla fine devo anche scambiare tra y a questo punto quando vado a fare la mia derivata f' di x questo fa un mezzo logaritmo, questo lo posso anche scrivere come logaritmo di 1 più x meno logaritmo di 1 meno x quindi quando vado a derivare qua mi viene 1 fratto 1 più x che è la derivata del logaritmo di 1 più x che è la derivata di 1 più x che fa 1 meno 1 fratto 1 meno x per la derivata di meno x che fa meno 1 quindi che cancella questo 2 quando vado a fare questa somma mi rimane un mezzo qua mi viene 1 meno x quadro poi sopra mi viene 1 meno x più 1 più x meno x più x se ne vanno, 1 più 1 fa 2 e diviso un mezzo fa 4 quindi qua mi viene 1 fratto 1 meno x quadro questa è la derivata della forzione questa è la derivata della forzione arco tangente torna torna perfettamente perché se qua metto arco tangente di iperbolica di x 1 fratto 1 meno x quadro intanto è sicuramente definito tra meno 1 e 1 a meno 1 e 1 perde significato 1 fratto 1 meno x quadro è definito anche per valori esterni a meno 1 e 1 però la non ci interessa perché è la funzione che non è il valore di x quadro maggiore di 1 quindi poi com'è? quando x quadro è minore di 1 1 fratto 1 meno x quadro è sicuramente definito e positivo il che corrisponde al fatto che l'arco tangente è una funzione crescente quando x quadro si avvicina a 1 cioè x si avvicina a 1 da destra o a meno 1 da sinistra la derivata se ne va a più di più il che è così il che è coerente con il fatto che la funzione di quei punti abbia degli asidiosi ok? va bene quindi con questo mi sembra di non dimenticare nulla però diciamo se avete ricordate se vi ricordate di funzioni che abbiamo trattato che non abbiamo incluso nel nostro specchietto di derivato ditemelo subito così ne andiamo a calcolare più o meno abbiamo concluso con lo specchietto delle derivate quindi adesso sappiamo quando le funzioni sono diciamo elementari che abbiamo trattato sono derivabili sappiamo le derivate quanto vanno qui sappiamo pure dove non sono derivate per esempio dove abbiamo perso derivabilità in pochi punti in verità abbiamo perso derivabilità per l'arco coseno nei punti meno 1 e 1 l'arco coseno qua poi abbiamo per l'arco coseno iperbolico nel punto 1 basta tutti diciamo gli altri casi abbiamo avuto e dov'era definita la funzione la funzione cioè la reddomina della funzione la funzione ok? bene oh adesso dobbiamo noi abbiamo già dato una prima interpretazione della derivata la derivata ci dice è il coefficiente anuale dell'elettro tangente in particolare se questo coefficiente che è positivo vuol dire che la nostra funzione è crescendo nel punto in un tono del punto è più grande di f di x con 0 a destra più piccolo di f di x con 0 a sinistra se il coefficiente anuale dell'elettro angolare è negativo cioè se la derivata è negativa la funzione sta invece decrescendo nel punto per tutto succede e questo l'abbiamo già visto poi abbiamo visto anche il teorema di Fermat il teorema di Fermat che ci dice che se siamo all'interno del nostro dominio e siamo in un punto di massimo di minimo relativo quindi la derivata deve essere necessariamente questo è un teorema molto importante perché ci dice dove andare a cercare i punti di massimo o di minimo della nostra funzione facciamo un esempio se io prendo la funzione f di x uguale 3x più seno di x sull'intervallo x appartenente a 0 5 più greco mezzo e vi chiedo di studiare di dirmi dove la funzione c'è dei punti di massimo di x allora che cosa mi succede? io vado a fare la mia derivata la derivata tra 3 più coseno di x questa derivata è maggiore di 3 meno 1 perché coseno al minimo può valere meno 1 quindi è maggiore o uguale di 2 che è strettamente 2 che vuol dire che la mia funzione è derivabile in tutti i punti dell'intervallo ma la derivata è sempre positiva che vuol dire che se i punti sono interni per il teorema di Fermat quelli non possono essere né massimi né minimi quindi quindi dove facciamo non 5 più greco mezzo facciamo sì 5 più greco mezzo allora come fa sta funzione? sta funzione fa così qualcosa del genere cioè A nelle piccole insomma la funzione seno di x va così da 0 e 5 più greco mezzo la funzione quella ci dovete sommare la funzione 3x è chiaro che la funzione seno di x vi fa oscillare un po' la vostra funzione però per quanto sia il coefficiente angolare rimane compreso tra 2 e 4 non lo riesco a fare bene ok? comunque fatto sta che noi sappiamo che in tutti i punti interni la derivata è positiva e quindi non ci possono stare i massimi e i minimi neanche relativi ricordate che un massimo è un minimo assoluto e anche un massimo è un minimo relativi allora dove stanno questi massimi e minimi assoluti? stanno per forza gli estremi gli estremi sono 0 e 5 mezzi pi greco f di 0 fa 0 f di 5 mezzi pi greco fa 15 mezzi pi greco più seno di 5 mezzi pi greco 5 mezzi è 2 e mezzo il seno di 2 pi greco lo potete togliere il seno di pi greco mezzi fa 1 quindi questo è 15 pi greco mezzi più 1 quindi qua non sta fatto per niente in scala cioè questo deve essere molto più piccolo giustamente giustamente 15 pi greco mezzi più 1 stiamo parlando di siamo intorno a 25 7 e mezzo per più di 3 7 e mezzo per 3 fa 22 e mezzo più 1 fa 23 e mezzo ma questo non è 3 è un po' più di 3 quindi siamo 15 di greco mezzi più siamo un numero molto elevato ok? quindi vedete che questa piccola perturbazione fa si che vedete che in ogni punto la funzione continua sempre a salire può salire con una maggiore o una minore intensità però non diciamo la derivata uscirà tra 2 al massimo quando può valere 4 coseno è compreso tra meno 1 dove il coseno vale meno 1 la derivata vale 2 dove il coseno vale 0 la derivata vale 3 dove il coseno vale 1 la derivata vale 3 e quindi continuando a salire su tutto l'intervallo automaticamente il punto di minimo sta in 0 su primo esterno 1 di massimo sta sul secondo esterno così andiamo a fare un altro esempio poi cerchiamo di trarre una regola generale una regola generale all'ultimo andiamo a fare a studiare questa funzione P f di x uguale al seno del valore assoluto di x quadro meno 1 per x compresi compresi tra meno 3 e uno dice qua già il grafico è un po' più difficile vedete l'altra volta abbiamo fatto prima la derivata e poi abbiamo fatto il grafico anche stavolta ci può convenire fare la prima la derivata e poi fare tante volte può succedere sì allora innanzitutto questa funzione la dobbiamo scrivere meglio chi è questa funzione? seno di x seno di valore assoluto di x quadro meno 1 è uguale di meno satire allora questo valore assoluto o fa x quadro meno 1 o fa 1 meno x quadro quando c'è il valore assoluto di una cosa o è quella cosa o gli cambia seno quindi questo può valere solo seno di x quadro meno 1 oppure seno più 1 meno i quadro cioè non è che ci stanno tante alternative quando vale la prima e quando vale la seconda? quando è che vale questa? no? non mi interessa se mi date anche la risposta la risposta è giusta dopo aver fatto un conto ma secondo me è sbagliata il discorso mi dovete rispondere tecnicamente quando è che non cambio il valore assoluto non cambia valore al argomento quando è che il valore assoluto di x è x quando x è positivo quando è che il valore assoluto di x quadro meno 1 è x quadro meno 1 quando? se mi dire x è positivo vi lancio il legge quando il suo argomento è positivo quando x quadro meno 1 è positivo qui invece quando x quadro meno 1 è negativo l'uguale lo potete mettere solo sopra solo sotto da tutte e due le parti tanto se è uguale a 0 o ci cambiate segno o non ci cambiate segno è sempre 0 rimane questa che cosa corrisponde? questa corrisponde a x quadro maggiore di meno 1 oppure x maggiore di 1 chiaro? no quindi questo va capito bene allora andiamo a fare la derivata come si fa la derivata? beh, innanzitutto se x è minore di meno 1 quindi minore di meno 1 è maggiore o uguale a meno 3 qua sarà x maggiore di 1 è minore o uguale a meno 3 perché noi ci eravamo limitati da meno 3 adesso come si fa la derivata? si deriva separata bene allora per x compreso cioè prima si deriva quella quindi cosa mi... qual è la derivata di quella? diciamo la funzione di solito chi è? allora 2x per coseno di x quadro meno 1 questo vale se x è compreso tra meno 3 e meno 1 oppure x è compreso tra 1 e 2 e se no? se derivo sotto? meno 2x per coseno di 1 meno x quadro ma qua posso scrivermi x quadro meno 1 perché coseno è una funzione? pari se no no cioè questa funzione qua è l'opposta di quella di sopra infatti la derivata è meno questo dove vale? attenzione che qua vale per x compreso tra meno 1 e 1 però stavolta gli estremi li perdo perché? perché nel punto meno 1 nel punto meno 1 il quadro meno 1 valeva 0 cioè è il punto di giunzione tra queste due espressioni allora che vuol dire? nel punto meno 1 per esempio prendete meno 1 qua la derivata quanto mi fa? se usassimo questa espressione farebbe? coseno di 0 fa 1 2 per meno 1 fa meno 2 mi viene meno 2 qua la derivata quanto farebbe? coseno di 0 fa sempre 1 meno meno 2 fa 2 che vuol dire e la la derivata non c'è ci sarà un punto angoloso perché ci sarà un punto angoloso? è perché da sinistra c'è un'espressione da destra c'è un'altra espressione ricordate c'era una funzione valore assoluto la funzione valore assoluto nel suo, quando il suo argomento fa 0 tipicamente non è il derivato chiaro? adesso lo vedremo meglio quando andremo a fare il più comunque quindi i punti meno 1 e 1 li dobbiamo tenere fuori da questa situazione per adesso il discorso qui vale perfettamente su tutti i punti interni qua vale pure sugli estremi perché sugli estremi non c'erano problemi sugli estremi verso meno 3 e verso meno 2 verso meno 1 e 1 no anche lì bisogna stare nei punti interni perché diciamo in tutto un intorno del punto deve valere questa definizione o questa definizione perché se non vale questa definizione o questa definizione in tutto un intorno del punto io quando vado a fare il rapporto incrementale ho problemi questo è il motivo per cui quando vado a fare la derivata qua perdo il punto meno 1 e perdo il punto meno 1 allora vediamo un po' adesso non abbiamo fatto nessun grafico vediamo un po' quali sono i punti che possono essere dei massimi o dei minimi relativi quindi i punti che si potrebbero candidare a essere massimi o minimi relativi da dove possono uscire? ehi, da dove possono uscire? allora io so che per il teorema di Fermanti se i punti sono interni e se ci sta la derivata la derivata deve fare 0 allora potrebbero uscire da quest'equazione qua o no? potrebbero uscire da qua se è uguagliata a 0 o la prima o la seconda è uguale perché tanto ci sta un segno di differenza cioè avete due espressioni per la derivata però le due espressioni differiscono per un segno quando le vado a uguagliare a 0 e inutile ce ne metto tutte e due perché tanto se fa 0 l'1 fa 0 l'2 poi però ci sono altri punti? quali altri punti posso considerare? quelli che non sono coperti dal teorema di Fermanti e chi sono? meno 3 meno 3 perché? perché è 1? è 3 quindi non è in te poi meno 2 poi meno 1 e 1 perché meno 1 e 1? perché meno 1 e 1 la funzione non era vedi? quindi i minimassimi e minimilativi minimilativi o escono da qua o escono da uno di questi punti è chiaro? come si ragiona? adesso andiamo a finire questo esercizio allora andiamo a studiare questa equazione qua x coseno di x quadro meno 1 uguale a 0 allora questo è un prodotto che è uguale a 0 quindi una possibilità è? x uguale a 0 l'altra possibilità qual è? coseno di x quadro meno 1 uguale a 0 ma quando è che il coseno si annulla? quando è che il coseno si annulla? quando x quadro meno 1 quando il suo argomento è uguale a pi greco mezzi più k pi greco però ricordatevi che x deve essere sempre compreso tra meno 3 e 2 chiaro? allora andiamo a vedere la funzione x quadro meno 1 com'è fatta la funzione x quadro meno 1? la funzione x quadro meno 1 è fatta così qui qua siamo a meno 1 chi è pi greco mezzi più k pi greco? pi greco mezzi meno pi greco fa meno pi greco mezzi poi abbiamo più pi greco mezzi più pi greco mezzi significa 1,57 circa poi abbiamo poi abbiamo dopo più pi greco mezzi abbiamo cosa abbiamo? tre tigre comezzi e poi ne abbiamo altri qua è inutile andare oltre perché questa già non intersega più la nostra parabola ok? quindi quelle sotto a maggior ragione non intersegaranno la nostra parabola quindi andiamo a vedere x quadro meno uno uguale pi greco mezzi che vuol dire? vuol dire x quadro uguale pi greco mezzi più uno che fa circa due virgola cinquanta sette quindi x è uguale a più o meno la radice quadrata di pi greco mezzi più uno queste le dobbiamo considerare? sì perché la radice quadrata di due virgola cinquantasette è circa uno virgola sei quindi siamo a più uno virgola sei e a meno uno virgola sei qua mettiamo in to circa a uno virgola sei e circa qua a meno uno virgola sei x uno prendo quello con più e meno x uno e meno x uno adesso andiamo a fare questa la possiamo cancellare perché ormai dovremmo averla imparata andiamo a fare x quadro più meno uno uguale a tre pi greco mezzi quant'è tre pi greco mezzi? pi greco 3,14 circa più uno virgola cinquanta sette circa fa 4,71 circa quindi x quadro qua fa tre pi greco mezzi più uno stavolta che è circa circa 5,71 quando vado a fare la radice la devo considerare? è quella con più no perché questa qua adesso esce da due qua ci sta due e questa qua va fuori a me interessava solo fino a due invece quella con meno sì perché stavolta questa qua è maggiore di meno tre poi qual è la successiva? quindi questa qua a più o meno x2 quindi x2 uguale a radice quadrata tre pi greco mezzi più andiamo a fare la prossima qual è? x quadro meno uno uguale a cinque pi greco mezzi quindi x quadro uguale a cinque pi greco mezzi più uno allora i greco mezzi sempre circa 1,57 per 5 ecco qua dobbiamo fare il conto preciso perché 5 per uno e mezzo fa sette e mezzo 5 per 0,07 fa 0,35 7,85 più uno fa 8,85 che comunque è sì perché se era 0,08 faceva comunque 8,90 quindi comunque è minore di tre quindi qua ce ne sta un'altra quando andiamo qui c'è un'altra intersezione meno x con tre che è maggiore di che è maggiore di meno tre dove x con tre è la radice di cinque pi greco mezzi più uno dopodiché la prossima non mi serve più perché la prossima allora già queste qua da questa parte non le consideravo più perché andavamo se già questa è maggiore di due l'altra sarà ancora più grande ancora più grande quindi usciranno da due la prossima sarà radice di 9 pic greco mezzi più uno 9 pic greco mezzi più uno è maggiore di nove e quindi no scusate 7 pic greco mezzi più uno che comunque è maggiore di nove e quindi la radice quadrale di nove è maggiore di tre quella col meno è meno di meno andiamo allora a fare il grafico della nostra funzione finora ho studiato il segno della derivata no ok cominciamo quindi qua chi sono i punti da considerare sono cancello quelli che non mi interessano sono x uno meno x uno quindi sono più o meno x uno dove x uno è questo poi c'è meno x due dove x due è questo e poi c'è meno x tre dove x tre tutti gli altri punti non mi interessano più poi ci sono questi sono quelli che in cui si annula il coseno questo coseno qua poi ci sta x uguale a zero poi ci sono i punti meno tre meno due meno uno e meno uno ok allora lo specchietto ce lo cancelliamo tanto per oggi non ci serve più allora adesso metto in ordine questi punti questi punti chi sono meno tre meno x tre meno x due meno x uno poi c'è meno uno poi c'è zero poi c'è x uno e poi c'è due allora più x uno meno x uno questi erano più grandi di uno perché erano circa più o meno 1,6 in mezzo c'erano zero ah mi sono scordato me l'ho dimenticato me l'ho dimenticato poi c'erano i punti meno uno e meno uno stavano qua li devo mettere qua in mezzo perché uno è più piccolo di x uno e meno uno è più grande di meno x uno poi c'erano i punti meno due meno x tre e poi c'erano gli estremi che erano meno due e meno allora cominciamo a fare il conto della selva in questi punti calcoliamo la funzione f ricordo che la funzione f è seno di x quadro meno uno del valore assoluto di x quadro e poi facciamo f primo allora qua quanto mi viene meno tre al quadrato fa nove non meno uno fa otto qua viene seno di otto allora seno di otto facciamo la calcolatrice fa 0,99 fa 0,99 0,989 qua secondo voi quanto fa meno x tre devo fare x tre al quadrato fa 5 piccola meno uno 5 piccola più uno meno uno fa 5 piccola seno di piccola unos e 5 piccola al quadrato fa seno di piccola di piccola medzi seno di piccola di piccola comezio fa uno qua invece in meno x2 il quadrato fa tre piccola più uno ci tolgo uno fa seno di tre p greco mezzi, seno di tre p greco mezzi quanto va? meno uno. A meno x uno, qua mi viene un'altra volta, uno. A meno uno, qua quanto viene? A meno uno, viene seno di zero che fa zero. A zero, quello di zero fa zero, meno uno fa meno uno, ma non valo assoluto, qua mi viene uno, mi viene seno di uno. Seno di uno lo facciamo con il, dovrebbe fare 0,56. Scusate, 0,84. 0,84, c'è sempre circa, eh? Ricordo che mi viene. Poi A1, qua la funzione fa di nuovo zero. A x1, questa funzione è pari, perché c'è x quadro, quindi la funzione vale di nuovo, uno. Poi A2, mi vale seno di 3. Seno di 3 fa 0,14. Circa, sempre. Adesso andiamo a cercare di fare il grafico della nostra funzione, lo facciamo qua su. Guardate, non ho scritto neanche, adesso dovrei scrivere i valori della derivata, poi li possiamo scrivere giusto per controllare, ma in realtà non mi sembra. Allora, meno 3, la funzione, prendete 1 e meno 1. A meno 3, questi sono, perché mi interessano queste? La nostra funzione è un seno, l'argomento è complicato, ma il valore della funzione è un seno di un certo argomento complicato, i valori della funzione seno sono comunque sempre compresi tra 1 e meno 1. Quindi, se io traccio queste due rette, sto dicendo che la funzione deve vivere qua in mezzo. A meno 3 la funzione faceva 0,98, stava molto vicino a 4. Poi c'era meno x3, dove la funzione era arrivata a 1. Poi c'era meno x2, dove la funzione era arrivata a meno 1. Poi c'era meno x1, dove la funzione era arrivata a 1. Sto andando un po' troppo luce. Poi c'era meno 1, dove la funzione era arrivata a 0. Qua, però, la funzione cambia definizione, perché c'è questo valore assoluto. Quindi, in 0, invece di continuare ad andare sotto, cosa fa? Vale di nuovo 0,84. Quindi, va, sale, ma non fino a 1. Poi, dall'altra parte, la funzione è una funzione pai, quindi si deve comportare in maniera simile. Fa così, fa così, e poi, perché non fa così? perché semplicemente, quando arriva a 2, la blocco, perché da qua sono partito da meno 3, qua sono arrivato a 2. Praticamente, che cosa sarebbe successo qui? Sarebbe successo che questa funzione continuare a scendere fino a qua, questo pezzo è stato ribaltato per via del fatto che qui c'è il seno del valore assoluto di squadra meno 1. non è che qua, uno dice, eh, ma tu sei il professore, c'hai l'esperienza. No, io qua sto facendo il giochetto la settimana in mese. 0,98 fino a 1, devo salire. Da 1 fino a meno 1, che devo fare? Devo scendere. Da meno 1 fino a 1, devo salire. Da 1 fino a 0, devo scendere. Da 0 a 0,84 devo salire. Da 0,84 a 0 devo scendere. Da 0 a 1 devo salire. Da 1 a 0,14 devo scendere. Questo lo so, perché qua in mezzo la mia derivata non si annulla. Poi, perché qua ci metto la v? Perché qua meno 1 e 1 probabilmente sono punti angolosi. Quindi qua ci può andare bene una v. Mentre negli altri punti, i punti meno x3, meno x2, meno x1, 0 e x1, sono punti dove si annullava la derivata. Allora, se si annulla la derivata, la devo fare liscia, perché la devo fare contagente orizzontale. Non è che ci vuole un genio. Quindi, la funzione molto probabilmente ha questo grafico. Ora, adesso andiamoci a calcolare i valori della derivata per vedere, per confermare. Allora, nei punti meno x3, qua, la derivata faceva 0, e questo perché è nei punti dove si annullava, l'avevamo visto qua, o si annullava la x, o si annullava cos'è la x quadro più? meno 1. Ok? In meno 3, in meno 3, la derivata è questa qua. Quindi devo fare, meno 3 per 2 fa meno 6, per coseno di 8. 8 coseno per 6 uguale, cambio segno, 0,87. che significa che qua, coseno e stava salendo. E infatti sta salendo. In meno 1, lo facciamo solo in meno 1, perché tanto in 1 il discorso è lo stesso. Se uso questa, mi viene coseno di 0, che fa 1 per meno 2. Se uso questa qua, mi fa coseno di 0, che fa 1 per più 2. Che significa? E qui ci arrivo con derivata sinistra meno 2, derivata destra più 2. Se lo fai dall'altra parte, mi viene derivata sinistra meno 2, derivata destra più 2. Perché in 1, stavolta a sinistra c'ho questa e a destra c'ho questa. Quindi qua c'ho meno 2, coseno di 0 che fa 1. Quindi meno 2 a sinistra, stavolta a destra invece di meno 2. Direi più 2. Quindi un'altra volta abbiamo la stessa. Qui facevo a 0. Nel punto 2 devo fare, devo usare questa qui, No, devo usare di nuovo questa, perché se è tra 1 e 2 devo usare questa. Quindi 2 per 2 fa 4, per coseno di 3. Coseno di 3 è negativo, quindi viene meno 4. Vedete che qua la derivata è più ribida che qua. Qua la derivata è meno 2, e qua la derivata è meno 4. Circa. Quindi, adesso se vi andate a calcolare altri valori della derivata, per esempio in un punto qua e mezzo, vedete che è negativo, se in un punto qua vedete che è positivo, la funzione sta salendo, in un punto qua la derivata è negativa, sta scendendo e così. Quindi, il discorso di calcolarci il valore di F' qua è stato quasi perfettamente inutile, perché il grafico l'avevamo capito già prima, però attenzione, è stato inutile, perché noi abbiamo fatto i conti bene. Se ci fossimo sbagliati in qualche posto nel fare i conti, quando andavamo a controllare con i valori della derivata, a un certo punto vedevamo che le cose non tornavano, se non tornavano ho sbagliato la derivata come fa il grafico. A questo punto, quali sono i punti di massimo assoluto? Quali sono i punti di massimo assoluto? Meno x3, meno x1, e x1, perché qua la funzione vale minimo, questo qua è un punto di massimo relativo, questo qua è un punto di minimo relativo, questi due qua sono punti di minimo relativo, questo qua, meno x2, è il punto di minimo, atto, dove la funzione vale, meno 1. Quindi, adesso, voi avete gli appunti, avrete la video lezione, andate a casa, prendete il computer, prendete questa funzione, fatela visualizzare per x, che va da meno 3 a 2, basta qualunque programmino che faccio un grafico di funzione e vedete se sta fatto bene. Cioè, non ci vuole niente. però, questa funzione, cioè voglio dire, è una cosa scema, cioè non è una cosa, cioè non è, gli americani direbbero, it's not rocket science, è una cosa elementare, soltanto che se la fai con logica, se la fai fare al computer, vabbè, l'ho vista al computer, se la fai al computer, tu devi saperla fare tu, dici, ma guarda tanto lo fa il computer, eh no, tu devi essere in grado di controllare quello che fa il computer, perché, tante volte, il computer dà risposte reale, dice, no, il computer non è fallito, non è fallito, sbaglio o meno diventa più, oppure, capito, basta con qualunque piccolo errore, e la funzione diventa completa, e uno, dice, vabbè, non se ne accorge, perché non è in grado di controllare, neanche, per esempio, se vi venisse una funzione, se io mi do questa funzione, voi fate il grafico al computer, il grafico al computer, la funzione vi viene tra meno 2 e 5, può essere, se è un seno, deve essere sempre compreso tra meno 1 e 1, è chiaro? hai sbagliato qualcosa, io dico, no, 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 ho fatto bene, no, no, hai sbagliato qualcosa, perché se non si, deve essere pure stato ironico, chiaro? Poi, perché dovete essere in grado di controllare? Perché, in molti casi, diciamo, è vero che io mi posso aiutare con il computer, non c'è nulla di male, nel fare risolvere al computer, anche equazioni differenziali, piuttosto che, il problema sta, ecco, abbiamo una mezz'ora, adesso, facciamo 5 minuti pausa, e poi vi spiego perché non ci si può fidare con il computer. è vero che è il nostro, e poi ci si può fidare con il computer, e poi ci si può fidare con il computer, e poi ci si può fidare con il computer, per favore,